ragazzi con la mia frolla oggi facciamo una bella frolla con la nostra zucca chissà questa cucuzzata di questa marmellata di cucuzza facciamo una bella crozzata internazionale la sistemiamo tutta qua dentro e poi la copriamo e la mettiamo dentro il foglio e per oggi dentro il forno abbiamo realizzato il nostro dolce questa è una marmellata di cucuzza la zuccata bene chiamata la cucuzzata la cucuzzata la cucuzzata grazie a Gabriele che me l'ha fatta avere questa è fatta in casa cucuzzata fatta alla casa ragazzi ci vediamo per la prova dell'assaggio come com'è internazionale